Bob, lo stai facendo. Qualunque cosa accada, ok? Non ti deluderò, buono. Sono così emozionata. Benvenuto su N24 Bank. Come posso esserti utile? Devo andare alla cassaforte. Ecco il mandato di perquisizione. Non posso farti entrare nella cassaforte. Ci faranno entrare subito. O ti arresterò. Ti prego, non arrestarmi. Seguimi. Ecco la cassaforte. Comunque, cosa stai cercando? Sono. Non sono autorizzato a dirtelo. Altrimenti mi renderei perseguibile. Non siamo criminali, dopo tutto. Buono, non posso farlo. Cosa sta succedendo qui? Lo fa sempre in questo modo? Questa. N è una misura tattica. Torno subito. Bob, dove sei? Sono. In bagno. O mio Dio, Bob. Perché sei scappato? Sono un poliziotto. Stiamo solo rapinando una banca. Andrò in prigione per almeno cento anni per questo. Bob, vieni fuori. Ti darò qualcosa per calmarti. Non avrei mai pensato di rapinare una banca. E ora anche l'alcol? Cosa sta succedendo qui? Bevi birra in bagno? Faresti meglio a catturare i ladri, idiota. Su, buono. Esci subito da qui. Pensi che Bob ce la farà? Sta già impiegando troppo tempo. Bob è ancora troppo inesperto. Non credo che ce la farà. Se non tornano entro 5 minuti, passeremo al piano B. Significa che stiamo assaltando la banca. Ora possiamo procedere con la ricerca. Fateci entrare nella cassaforte. Sì, ti faccio entrare. Puzzi di birra, poliziotto. Questo è il mio deodorante. Quindi è ora qui dentro. C'è qualcosa che non va qui. Verificherò con la polizia. Salve, sto parlando con la polizia. Salve, siete collegati alla polizia. Come posso esserti utile? C'è un poliziotto nella nostra banca. È ubriaco e sta perquisendo la nostra cassaforte. È anche piuttosto spessa. Non abbiamo tempo per scherzi come questi. Non siamo un outline divertente. Ora sto riagganciando. Ciao. Dovrebbero essercene 100 milioni qui? Qui ci sono solo computer. Buono. Un tempo depositavano i loro soldi qui. E ora questa è solo la sala server. E cosa facciamo adesso? I cinque minuti sono finiti. Sono entrambi nei guai. Allora dovremo assaltare la banca. Prenderemo i soldi adesso. Dov'è il poliziotto? È nella parte posteriore sinistra. Cosa stai facendo qui? Zitto. È un testimone. Potrebbe denunciarci alla polizia. Buon lavoro. Quindi è ora dentro. Bob, perché ci metti così tanto? Dove sono i 100 milioni? Non ci sono soldi qui. Qui c'è solo il server. Bob, idiota. Sapevo che avevamo solo problemi con te. Ragazzi, non abbiamo tempo per parlare. Sono sicuro che la polizia arriverà presto. È già qui. Bob, stai zitto, idiota. Esci subito da qui. Agente di polizia, cattura questi criminali. No, sono uno di loro. Sono uno dei cattivi. Sono uno dei cattivi. Salve, sono collegato alla polizia. Salve, questo è il numero di emergenza della polizia. Come posso esserti utile? C'erano tre persone nella nostra banca con una pistola. C'erano tre persone nella nostra banca con una pistola. Volevano attaccarci. E un poliziotto grasso voleva aiutarti. Sì, è chiaro. Ti auguro una buona Pasqua. Sto scherzando. Siamo stati fortunati a non essere stati scoperti. Era davvero vicino. Bob, non sei ancora pronto per una rapina. Ti insegneremo a vivere da gangster. Vuoi che faccia addestramento per gangster? Sì, idiota. Devo dirti tutto due volte o cosa? Sì, sto facendo l'allenamento. Cos'altro posso fare? Benvenuto al corso per gangster. I prossimi giorni saranno i più difficili della tua vita. Sei sicuro di andare fino in fondo, Bob? Sì, lo sono. Sembra davvero buono. Regola numero uno. Non evitare mai un combattimento. Pensavo che il ragazzo più intelligente avrebbe ceduto. Non è un buon detto? No, non con noi. Ti metteremo subito alla prova, Bob. Buono, ti occuperai dell'allenamento d'ora in poi. Hai capito? Sì, ho capito. È la tua occasione, Bob. Bussa a quel ragazzo che gioca a biliardo. È un'ottima idea, davvero. Fa parte dell'allenamento, Bob. Bob, l'altro. Non quello con i muscoli. Il ragazzo è troppo forte. Vieni fuori. C'è qualcosa da chiarire. Oh sì, è così? Andiamo allora. Scommetto 50 dollari sul poliziotto. Che tipo di problema c'è? Penso che tu abbia bisogno di una sculacciata di tanto in tanto. Vieni qui. Bob, assicurati di coprirti. Bob, fai come dico. Hai, non me l'aspettavo. La prossima volta, pensa con chi hai a che fare. Hai perso 50 euro. Non può fare niente. Bob, ti ho detto di andare a trovare l'altro ragazzo. Era ovvio che avresti perso contro di lui. Oh cavolo, buono. È molto più difficile di quanto pensassi. Cosa devo fare adesso? Fai esattamente quello che ti dico di fare. Tornerai lì dentro adesso. Ma al ragazzo giusto. Va bene, fai un altro tentativo. Di nuovo tu? Immagino di non averne abbastanza, eh? È esattamente quello che sembra. Che cretino. E' buono? Come se l'hai cavata? Beh, la metterò in questo modo. Ciò che non lo è, può ancora succedere. Quindi ha fallito. Buono, ho un'ottima battuta anche per te. Uno studente è bravo quanto il suo maestro. Stai zitto, Bob. Quindi ora torniamo al nostro allenamento. Lezione 2, niente scuse. Devi prepararti alla mafia, Bob. Sei troppo grasso. Non sono grassa. Ho solo ossa pesanti. Bob, sei davvero troppo grasso. Ti prepareremo per la prossima lezione. Quindi Bob, dobbiamo metterti in forma. Quanto sei motivato? Non particolarmente, ad essere onesti. Ti darò un compito con cui niente può andare storto. Stai facendo squat adesso. Esatto, continua, Bob. Attenzione alla tecnologia. Bob, fai attenzione alla tecnica. Oh mio Dio, Bob. Sei così privo di talento. Non posso farlo, Bono. Non sono la persona giusta per la mafia. Come sta, Bono? Fa quello che dici? Dobbiamo dare a Bob un compito semplice. Non sta ancora bene. Bob, stai seguendo il nostro rituale di registrazione adesso. Sembra davvero buono. Cosa significa rituale di registrazione? Non immaginavo la vita nella mafia in questo modo. Vorrei essere rimasto con la polizia. Allora non avrei bisogno di pulire il bagno adesso. Ciao Bob, come stai? Non sei sopraffatto da questo compito, vero? Buono, ne ho abbastanza. Pulisci tu stesso il bagno. Me ne vado. Non avremmo potuto comunque usarti. Bob, non vogliamo vederti mai più con noi. Vai via e non tornare mai più. Vai via e non tornare mai più. Cosa farai adesso, Bob? Non potrai lavorare per la polizia e la mafia. Non lo so. Torno a casa per ora. Che idiota, quel Bob. Oh cavolo, cosa ho fatto lì? Cosa dovrei dire a casa? Che ho lasciato il mio lavoro come agente di polizia? E sono troppo stupido per la mafia? Devo chiedere consiglio a mia madre. Questa è l'idea perfetta. Mio figlio, Bob. Sono così felice di vederti. Ti ho preparato delle ciambelle. Le adori tantissimo. Ciao mamma, grazie per le ciambelle. Perché non ti siedi per ora? Mio caro figlio, cosa ti porta da me? Oh mamma, è una lunga storia. Posso chiederti un consiglio? Ma ovviamente, cosa sta succedendo? Cosa fa un poliziotto quando perde il lavoro? E chi è troppo stupido per la mafia? Chi è così stupido? Nessuno. Sto solo chiedendo un amico. Penso che dovrebbe cercare un nuovo lavoro. Forse con un certificato falso. Mamma, devo andare in camera mia. Sto solo creando un curriculum falso. Chi li controlla correttamente? Ancora qualche correzione qua e là. Bene, il curriculum è pronto. D'ora in poi sono il professor von Bob Fels. Con un master ad Harvard. Mi candido subito per un posto vacante come medico. Ottimo, la domanda è stata inviata. Bob, mio caro figlio. C'è qualcuno al telefono qui. Vorrebbe parlare con te. Ciao, sono Bob. Con chi sto parlando? Salve, sono la signora Schmidt. Sto parlando con il professor dottor von Bob Fels? Sì, è esattamente quello che sono. Non ho molto tempo. Per favore, sii breve. Il tuo curriculum è perfetto per la nostra posizione. Vorrei invitarti a un colloquio di lavoro. Sono l'uomo perfetto per la posizione pubblicizzata. Dove e quando avrà luogo? Vorrei invitarvi domani alle 9 del mattino. Per favore, vieni all'ST. Mary's Hospital. Ok, molto bene. Accetto l'appuntamento. Molto bene. Ci vediamo domani. Fino a domani, buona giornata. Bob, va tutto bene? Sì mamma, va tutto bene. Sono così orgoglioso di te. Devo fare pratica con la mia performance. Salve, sono il professor dottor von Bob Fels. Il tuo nuovo primario? Non ho più niente da perdere. Dopotutto, non puoi scendere più in basso. Bob, che aspetto hai? Cosa è successo? Ciao mamma, non preoccuparti. Vado solo a una festa di carnevale. Ci vai come medico con un cappello da poliziotto? Come può essere? Oh, ho dimenticato di toglierlo. Grazie per il consiglio, mamma. Ti prego, Bob. Ti amo moltissimo. Porta con te una ciambella per il viaggio. Grazie, sei la mamma migliore del mondo. Ehi, puoi parcheggiare correttamente? Dobbiamo raggiungere la macchina. Faresti meglio a stare attento come dici. Non sai chi sono? Devi essere quel Bob Fels. Si chiama professor Dr. von Bob Fels. Se ottengo il lavoro, sei licenziato. Salve, sono Bob. Voglio dire. Sono il professor Dr. von Bob Fels. Buongiorno, professor von Bob Fels. Siamo molto contenti che siano venuti oggi. Hai trovato un parcheggio? No, ma ho parcheggiato comunque. Cosa intendi con questo? Proprio come ho detto. Il college non vede l'ora di sentire la tua opinione. Per favore, vai nella nostra sala conferenze. Ok, capitano. Cosa intendi con questo? Oh niente, è solo un detto della polizia. Professor Dr. von Bob Fels, che onore. Sono il professor Schmidt, direttore dell'ospedale. E questo è il dottor Julius, lavora con noi. Buongiorno, professor von Bob Fels. Salve signori. Vuoi un caffè? No, grazie. Hai anche delle ciambelle? No, non abbiamo ciambelle. Per favore, siediti. Ho dato un'occhiata al tuo curriculum. Quindi hai studiato ad Harvard? Sì, ho finito con 1,0. Vorremmo assumerti. E il dottor Julius sarà il tuo allievo, ok? Ma certamente sì. Imparerò molto da te. Ora attraverserai tutti i reparti dell'ospedale. Sono così felice di poter imparare da te. Sono davvero onorato. Salve dottore, ho un problema. Sono incinta e ho le vertigini. Per favore aiutami. Ho quello che fa per te. Qui hai un certificato di assicurazione sanitaria. Vai a casa e riposati. Andrà di nuovo bene. Ok, lo farò allora. All'università, tuttavia, lo impariamo in modo diverso. Ma siamo qui in pratica. Buongiorno, professor von Bobfels. Il signor Telkamp sta aspettando nella stanza dei pazienti. Soffre di obesità. Ok, so cosa fare. Dov'è il paziente? È nella stanza 200. Salve, signor Telkamp. Sono il professor von Bobfels. Quali sono i tuoi reclami? Ho un battito irregolare. E mi fa male lo stomaco. Emh, lo capisco. Darò un'occhiata alla tua cartella clinica. Quindi soffri di assipodidas. Si chiama obesità, idiota. Non puoi essere un medico. Mi basta, vado da un altro medico. È stato davvero poco professionale, professore. Sono un po' deluso da te, ad essere onesti. Quindi, può succedere a chiunque. Non ne sono così sicuro. Aspetta, mi squilla il cellulare. Salve, sono il professor von Bobfels. Sono di nuovo il professor Schmidt, il capo dell'ospedale. Il tuo primo giorno è stato buono finora? Ti piacciono le attività? Buongiorno, professor Schmidt. Non vedo l'ora di sentirti. Qui sta andando tutto secondo i piani. Ne sono molto felice. I colleghi hanno attualmente un caso difficile in sala operatoria. Per favore, vai nella stanza 500. Sì capo, ci vado subito. Bene, ma per favore non chiamarmi capo. Qui non fanno parte della mafia. E nemmeno con la polizia. Professor Schmidt, ho bisogno di parlare con te. Riguarda il professor Bobfels. Qual è il problema con lui? Ha fatto qualcosa di sbagliato? Sì, praticamente tutto. Non riesce nemmeno a pronunciare l'obesità. Forse è solo un po' eccitato. Chiamerò subito Harvard. Lo conoscono meglio. Buongiorno, professor von Bobfels. Abbiamo un caso difficile qui. Il paziente ha una ferita a Lanca. Ok, com'è successo? C'è stato un incidente? No, è caduto dal letto. Ah, come puoi essere così stupido? Non abbiamo tempo per scherzare. Cosa dobbiamo fare? Basta aggiustare, cos'altro? Salve, sono collegato all'Università di Harvard. Ciao, sì, sei tu. Come posso esserti utile? Sono il professor Schmidt e ho una domanda importante. Un certo signor von Bobfels ha studiato con te? Questo non posso dirtelo. Ok, grazie allora. Ma posso metterti in contatto con il professor von Bobfels se è quello che vuoi. Cosa intendi con questo? Ma lui è in clinica con noi. No, l'ho già visto oggi. Gli ho già preparato un caffè. Allora connettimi per favore. Sì, mi piacerebbe. Professor von Bobfels, salve. Salve, sono il professor Schmidt. È la prima volta che sento quel nome. Come ti è piaciuto il tuo primo giorno con noi? Non ho tempo per scherzi telefonici. Sono a Harvard, non da nessun'altra parte. Ora sto riagganciando, ciao. Dottor Julius, vai subito in sala operatoria. Fermate quel professor von Bobfels. E sto chiamando la polizia. Sì, lo farò. E' pronto, professore? Di persona sono calmo. Allora cominciamo, professore. Dov'è questo professore di Bobfels? Voleva andare in bagno. Lui è laggiù. Semplicemente non posso farlo. Quella bugia nel mio curriculum. È troppo per me. Devo uscire da qui il prima possibile. Signor von Bobfels, è qui? È un bagno per donne. Vattene via. Ok, se vedono un medico, chiami immediatamente la polizia. È grasso, stupido e ha i capelli neri. Ok, grazie per la descrizione. Vuoi che sia grasso e stupido? Questo non è assolutamente vero. Salve, quartier generale. Mi hai chiamato? Sì, ho un incarico per te. Andare in ospedale. Si dice che ci lavori un falso dottore. Bene, qual è la descrizione del colpevole? Si dice che abbia i capelli neri. Sembra un po' Bob. Sì, hai ragione. Salve, cos'è successo qui? Un professore di Bobfels si è rivolto a noi. Ma non è la persona che dice di essere. E dove potrebbe essere? Vicino alla sala operatoria. Fermatevi subito. Sono già in piedi. Cosa vuoi da me? Signor Fonbobfels, è in arresto. A causa della falsificazione dei certificati. Avete preso la persona sbagliata. Lo dicono tutti. Cosa diavolo stai facendo? Che aspetto ha? Il dottore sbagliato ti è appena passato davanti. Ok, mi sono guadagnato il campanello. Ho perso le chiavi della macchina. Metti le mani in alto. O sparo. Ho perso. È finita. Devo finalmente affrontare la verità. Sono in arresto. Finirai in galera a lungo per questo. Ti fotograferemo da tutti i lati. L'hai capito? Conosco i miei diritti. Ho diritto a una telefonata. Che mi dici dei tuoi doveri? Non li conosci? Va bene. Mi unisco a te. E ora un colpo frontale. Perché stanno sorridendo così stupidamente? Conosci la foto con Pablo Escobar? È sempre stato il mio modello. Con la presente inizio la causa contro Bob Dill. Signor procuratore distrettuale, la prego di leggere l'atto d'accusa. Sei accusato di lavorare come medico. Anche se sei un poliziotto. Sto chiamando a testimoniare la madre dell'imputato. Lascia mia madre fuori dal gioco. Cosa c'entra con questo? La tua richiesta è respinta. Mamma, non è quello che sembra. Posso spiegarlo? Come si è potuto arrivare a questo? Mi vergogno davvero. Per favore, dici qualcosa sulla persona dell'imputato. Lo conosci meglio di te? È semplicemente un idiota. Non posso aggiungere altro. Sta ammettendo il crimine, signor Bob Dill? Sì, ammetterò tutto. Ti condanno a 40 anni di carcere. Non voglio entrare lì. Vanno subito in cella. Oh, c'è un pestaggio. Sì. Ciao, bel ragazzo. Ce la caveremo molto bene. Ne sono sicuro. È esattamente quello che non volevo sentire. Che malattia ha il signor Telkamp? A. Dislocazione B. Assipo di Dasci. Obesità. Scrivi un commento. A. Sì. A. Sì. A. Sì. A. Sì. Grazie a tutti.